IANUS IANUS È il nome della mia isola. È qui che vivo. Iisabelle È il nome del mio amore. Ogni istante lo passavamo insieme. Ma un giorno Sentimmo un pianto. IISABEL!!! IANUS Per molti anni continuammo così. La vostra bambina è davvero adorabile. Chiedo scusa. Mia sorella ha affrontato una terribile tragedia. Il marito e la sua bambina risultano dispersi in mare. La piccola adesso avrebbe l'età di vostra figlia. Non appartiene a noi. Non possiamo tenerla. È sua madre. Sono io sua madre. Dobbiamo fare la cosa giusta. Un giorno... Tutto questo ci sembrerà solo un brutto sogno. Te lo prometto. Fanny Michael Fassbender forse non sapevate che l'attore frequentava la famosa scuola londinese Drama Center. Poi però ha interrotto gli studi. Beh, uno dei suoi compagni di classe era niente meno che Tom Hardy, che sostiene che Fassbender era il migliore attore di tutta la scuola. Voi che ne dite? Chi è più bravo tra i due, Hardy o Fassbender? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e cliccate qui accanto per tanti altri video. Ciao da Valeria! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti